Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, ben ritrovati, 7.07 lunedì 8 aprile, di nuovo qui in diretta su Crystal Radio con Good Morning Milano. Una buona giornata anche a voi, è lunedì, è difficile per tutti ma ce la faremo insieme, insieme si può, così si dice, quindi ce la faremo, ci daremo spalla l'un con l'altra, così che riusciremo a superare anche questo lunedì. 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5, è un po' la vostra linea amica, ok? Voi avete questo numero, usatelo, fatene un buon uso, cercate di raccontarci un po' cosa avete fatto nel weekend, oppure che cosa avete in programma per oggi, oppure come secondo voi andrà la mattinata, la giornata, insomma, usatelo per quello che volete. Noi siamo qua per farvi compagnia, per raccontarvi un po' di notizie con i giornali locali di Milano, così che, insomma, potete anche andare al bar poi e flexare, come dicono adesso quelli giovani, tutto quello che sapete, no? Ma sai che, l'hai letto oggi cosa dicono? Eh? Grazie a noi, grazie appunto a Good Morning Milano che vi racconta un po' tutto, ma poi abbiamo anche tanti altri appuntamenti, abbiamo gli ospiti, abbiamo la musica, abbiamo il buon lavoro, abbiamo tantissime cose oggi che faremo insieme da qui, alle ore 7.09 in questo istante, fino alle 9, più o meno, quando poi lasceremo la linea al giornale radio e ad Ambrogio Curti, che continuerà la programmazione mattutina. Questa è la mattina di Cristiano Radio, questo è il vostro programma, la vostra sveglia, Good Morning Milano. Fior d'Alizzo con Non voglio mica la luna, e invece proprio di luna dobbiamo parlare, perché l'ufficio programmazione non è che mette le cose a caso, eh? Grazie anche, anzi, all'ufficio programmazione che, appunto, con Fior d'Alizzo, Non voglio mica la luna, apre questa nostra puntata di oggi, lunedì 8 aprile, giornata dell'eclissi totale di sole. No, ve lo dico subito, non la vedremo da qua. Eh no, mi spiace, mi spiace, so che era già salito l'hype, appena ve l'ho detto, ma no, oggi non la vedremo dall'Italia, perché non si può vedere qui, ma dopo vi spiego bene cosa succederà. Allora, appunto, eclissi totale di sole quest'oggi, e quindi, insomma, tutti col naso rivolto verso il cielo. L'eclissi totale è quando, appunto, la luna va a coprire completamente il sole, cioè passa davanti, perché sapete, no, che la luna è più vicina rispetto al sole, no? Gira intorno al nostro pianeta e nel suo girare ogni tanto, appunto, passa proprio davanti al sole. In questo caso passa a una distanza tale per cui risulta grossa quanto il sole, no, in alcuni punti. E quindi oscura il cielo, oscura completamente tutto. Dove si vedrà, come si vedrà, lo potete trovare in giro sui vari siti, ad esempio anche su Corriere della Sera. Allora, se volete proprio vederla perfettamente, proprio che è una roba pazzesca, dovete andare a Nazas, a Nazas, in Messico, sì. 4 minuti e 28 secondi di buio totale alle 20.17 di là, ok? In realtà tenete presente che il tutto durerà dalle 17.42 alle 22.52 nel mondo, no? Tenete presente che poi andrà verso nord, parte, diciamo, dal Messico e va poi verso nord. Anzi, se volete potete trovare, ed è pazzesco perché non si trovano posti neanche su Airbnb, o mai un po' tardi, ma forse non ce la fate neanche con gli orari, ma almeno 7 ore, forse non riuscite ad arrivare giusto in tempo per vederla. Comunque potete andare in una qualsiasi cittadina del Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire e nel Maine. Poi in Canada, nell'Ontario e Quebec, il New Brunswick. E poi, se volete potete andare sulle coste della Terra Nova, appunto là in alto, che poi dopo va verso il Polo. Se siete riusciti a intercettarla, è una roba pazzesca. L'ultima totale, così dicono i giornali, totale, 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 fu nel 61, ok, era proprio totalissima. In realtà, gli eclissi durante l'anno ce ne sono una marea, davvero, davvero tantissime ce ne sono durante tutto l'anno. Tenete presente che dal 2000 ad oggi ci sono state 15, ad esempio, totali, ma di cui invece poi ci sono 224 eclissi invece solari, di cui 77 parziali, 72 anulari, cioè che si vede solo un fascio di fuoco intorno alla Luna, 68 totali, 7 ibris, insomma, veramente ce ne sono sempre. Questa qui è particolare perché appunto è totale e metterà proprio al buio una parte degli Stati Uniti. Oltretutto, poi immaginate, insomma, l'Ipe che è salito fuori, già mi immagino le cittadine del New Hampshire, oppure dov'è che possiamo andare nell'Arkansas, nell'Arkansas, sì, nell'Arkansas, o in Illinois. Potete andare a Chicago, andate a Chicago, la vedete perfettamente. Eh sì, Chicago e Illinois, la potete vedere, non deve essere niente male, eh. Anzi, notizie appunto che leggiamo ancora il giornale, Airbnb strapieni e prezzi alle stelle perché tutti vogliono andare a vedere le eclissi. Quindi niente, state qua, sul sito della NASA si vede tutto, anche sul sito del Corriere della Sera c'è la diretta streaming. Quindi non perdetevela, chissà che traffico che ci sarà invece in Arkansas. Jason Derulo, take your dancing. Di nuovo qui con Good Morning Milano, di nuovo a parlarvi della città, a parlarvi di quello che succede qui appunto nella nostra grande Milano, che, come sempre, vede novità in arrivo. In arrivo, novità anche ad ottobre saranno, ma se ne sarà già parlando adesso. Sto parlando di che cosa? Le nuove regole per Area C e Area B. Ebbene sì, perché Area C, pronti i nuovi divieti, leggiamo da Repubblica, stop a 50.000 auto e al 29% delle moto non sono nel centro di Milano. Ebbene sì, e quindi parte la protesta. Ebbene sì, perché la nuova fase sarà in vigore da ottobre. Il centro, quindi Area C, vietato ai diesel Euro 6, comprati dopo il 2018. Tutta la città, invece, quindi Area B, ha le due ruote, quattro tempi, Euro 0 ed Euro 1. La situazione quindi sta sempre più diventando piena di divieti, no? Per poter circolare in città. E questo porta ovviamente alle proteste. Proteste però che non arrivano più solo ed esclusivamente, diciamo, dagli incalliti automobilisti che sappiamo voler andare ovunque in auto, anzi li prendiamo spesso anche in giro per questo, o movimenti di liberazione dell'automobilista o cose del genere. No, anche gli stessi esponenti, alcune volte, della maggioranza, anche esponenti del mondo ambientalista, e quindi sto parlando di chi? Di ovviamente Carlo Monguzzi. Anche lui ha detto un paio di cose sul tema, perché in un post sui suoi social ha voluto dire questo, nel senso che dice, appunto, anzi riprendendo proprio un articolo di Repubblica, quello che stiamo leggendo noi adesso, fa un post dicendo sono tutte cose tecnicamente e ambientalmente corrette. Quindi ci sta, se volete a livello tecnico, a livello ambientale farlo, non c'è problema. Ma Area B e C sono gestite male e non danno diminuzioni né di traffico né di smog. Quindi, conclude Monguzzi nel suo post su Instagram, solo disagi con pochi risultati. Rischiamo l'autogol. Ebbene sì, perché il problema è quello, nel senso che anche gli ambientalisti più incaliti cominciano a dire, attenzione però, qui continuiamo a dare la responsabilità a chi le auto le ha comprate, senza dare responsabilità a chi le auto le produce. Io quello che non capisco è nel senso, allora, ci sta che vogliamo una città meno a misura d'auto. Perfetto, sono contentissimo di questo. Quindi cominciamo a pedonalizzare le zone. Facciamo le zone pedonali, non C, B, se è evidente che una macchina di più o di meno può entrare o no, ok? Anche perché, attenzione, le auto meno inquinanti sono spesso le interi le auto più grosse ormai. Perché se voi immaginate un SUV di ultima generazione, immenso in confronto a una Panda dell'85, quello può entrare, la Panda dell'85 non può entrare, ok? Poi se avete una Panda dell'85 in realtà forse sì, perché ormai è già quasi auto d'epoca. Ma nel senso, comunque, capite, un'auto vecchia di 20 anni è inquinante, ma anche se è un'utilitaria, anche se è una piccolissima macchinetta, invece un'auto nuovissima, SUV, alta, larga, lunga e tutto, magari anche elettrica, può entrare. E quindi capite che allora non è un discorso solo anche di congestione e quant'altro. L'altro tema, qual è? È quello del fatto di dire, ma se io ho comprato una macchina nel 2000, cioè un'auto comprata nel 2017, è l'altro ieri praticamente, quindi a livello ambientale è vero che vado a inquinare di meno, ma quell'auto lì dove finirà? Finirà il macero? Finirà a creare nuovi rifiuti? E quindi dov'è il gioco ambientale? Allora, abbasso i livelli di smog nella città? No, perché abbiamo visto che comunque non funziona così. Credo che sia arrivato il momento, e lo dico da fervente e convinto ambientalista, di cominciare a spostare la responsabilità non da noi ultimi, non dai noi consumatori, ma a chi le cose le produce e le fa. Quindi, le auto adesso vengono prodotte molto meno inquinanti di prima? Bene, vogliamo fare le città senza auto? Benissimo, ma non dovete dare la responsabilità a noi che quelle auto le abbiamo comprate magari nel 2017, nel 2016 o nel 2018. Annalisa con Sinceramente, e sinceramente devo dirvi che sta arrivando il Salone del Mobile con annesso fuori salone. E adesso ne parleremo, non prima però di leggere i vostri Whatsapp al 3317853555. Whatsapp di Alberto che ci dice buongiorno Milano, un saluto al buon Fabio che ci tiene compagnia tutti i giorni e buona settimana a tutti i cristallini. Ebbene sì, cristallini in ascolto, buongiorno a tutti e a tutte. E anche un saluto speciale, aggiunge Alberto, alle persone che stanno già lavorando in redazione a Good Morning Milano. Ebbene sì, abbiamo Elisa la produzione che è già qui sveglia e pronta a produrre il programma. Che cosa vuol dire? Beh, un giorno poi ve la invito qui, ve lo faccio raccontare direttamente da lei. Di fatto che se oggi avremo degli ospiti, è grazie ad esempio ad Elisa. Se oggi faremo dei temi interessanti, è grazie anche ad Elisa. E quindi insomma è fondamentale coloro che lavorano appunto qui tutte le mattine con noi. Vi ricordo soprattutto che sono degli studenti, studentesse, c'è gente che sta studiando per sperare un giorno di andare a fare questo mestiere ad altissimi livelli e ovviamente partono dal livello più alto che è quello di Good Morning Milano. Vabbè ragazzi, poi dovete accontentarvi delle altre radio, degli altri programmi. Però vabbè, insomma, noi vi diamo il meglio. Poi sta a voi trovare un giorno la vostra strada. Comunque no, la cosa bellissima appunto di Good Morning Milano che ogni tanto ci dimentichiamo è anche questa parte di educazione proprio che facciamo, la parte educativa, di formazione, anzi ecco, di formazione che facciamo verso queste ragazze e questi ragazzi che passano tre mesi qui con noi e ci danno una mano e speriamo di dargli tanto anche noi così che possono imparare un mestiere ed essere la meglio gioventù possibile. Devo dire che per adesso, insomma, dal 2015 che andiamo avanti con Milano News in questa modalità e devo dire che le soddisfazioni sono veramente tante e molte delle persone che sono passate da questa redazione ora lavorano in alti livelli, sono anche direttrici di testate giornalistiche, che sono in altre radio a fare giornali radio tutto il giorno, insomma, a produrre articoli sportivi per una testata famosissima televisiva che va sul satellite verso il cielo, se non so se avete capito. Parlavo di Sky. Ecco, nel senso, però nel senso, quelle cose lì, no? E quindi, insomma, è davvero davvero bello poter avere tutti queste ragazze e ragazze che fanno appunto questi tre mesi di stage curriculare qui da noi. Tra parentesi, la cosa bella è che io ormai che vado avanti sempre di più con gli anni, loro invece rimangono sempre fermi perché sono sempre di quell'età lì, no? E quindi rimango sempre legato al presente e se riesco a conoscere della musica nuova, se riesco a capire questo gergo quasi incapibile, devo dire, di tutti questi ragazzi e ragazze che vengono qui con noi è grazie al fatto appunto che mi tengono aggiornato, quindi non invecchio mai, quindi li ringrazio davvero tanto per questo. Dopodiché la cosa bella è anche comunque fargli ascoltare un po' di musica buona, eh? E sì, perché gli diamo... Cioè, ragazzi, il fior d'aliso cos'era stamattina, no? Quindi, insomma, tanta, tanta, tanta roba. Poi c'è lo scambio, nel senso, appunto, noi gli facciamo ascoltare un fior d'aliso e mi rispondono con un pinguini tattici nucleari. Va bene, eh, ci sta, ma ci mancherebbe. Ci mancherebbe, ci mancherebbe. Beh, anzi, la musica, la musica è quella che la fa da padrona sempre qui su Crystal Radio con cui potete rimanere in contatto grazie al nostro numero di WhatsApp che voglio ricordarvi che è il 3317853555 e, a proposito di musica, andiamo con un po' di musica. Musica tra me e loro, diciamo, eh, in questo caso, perché torniamo in atto di qualche annetto, siamo arrivati al 2019 e Tommaso Paradiso cantava, appunto, degli anni, o meglio, i nostri anni. Raccontava questa storia, un po' quella che abbiamo conto adesso, no? I nostri anni, quali sono i miei, i loro, i vostri? Qui, su Crystal Radio, a Good Morning, Milano. Città. Parliamo prima del Salone del Mobile. Bene, sì, sta arrivando, eh, settimana prossima. Il Salone inizia il 16. Dal 16 al 21 aprile, edizione 2024, e quindi, eh, arriva anche il fuorisalone, di conseguenza, e arrivano anche chi? Tutti quelli che vengono a Milano a vedere il Salone del Mobile e il fuorisalone. E quindi, da correre della sera a Milano, vi leggo la notizia. Milano, affitti record per il Salone del Mobile, prezzi delle case triplicati, triplicati, scusate, in Brera canoni medi da 5.700 euro a settimana. Fuori di testa qua la gente, eh. Alcune famiglie milanesi, pensate, si trasferiscono fuori città durante la settimana del design per affittare la propria casa e realizzare importanti guadagni. Rincari record anche negli hotel. Mamma mia, che roba. E comunque è così, ebbene sì, e quindi c'è tutto un articolo che vi spiega anche un po' le cifre e anche le zone in cui, insomma, ci sono stati degli aumenti. Pensate che, ad esempio, Alambrate, dove in media un affitto a settimana, ma com'è settimana? Sì, ok, un affitto a settimana, vedi, affitto breve ovviamente, nel senso Airbnb, Booking, quelli lì, no? Tutti quelli lì. Comunque l'affitto a camere, diciamo, 935 euro, 935 euro di solito. Invece, per la settimana del mobile, Alambrate, si va a 2891 euro. Ma è ovunque così, perché, tipo, a Garibaldi, portavolta, dove in media è sui 1400, si va a 4.800. Il rincaro più in alto, o più alto, ovviamente, come dicevamo prima, Avrera, che si va intorno ai 1.800 euro a settimana, di solito, durante l'anno, si arriva a 5.737 euro. Pensate, un rincaro del 243%. C'è anche su Corriere della Stiera il rincaro rispetto all'anno scorso, però. Cioè, quanto rispetto alla stessa settimana del salone del mobile dell'anno scorso sono rincarate le varie zone? Ecco, in questo caso, vince, invece, proprio Alambrate, che ha un aumento del 10% rispetto allo scorso anno. Garibaldi, 4,5%, Brera, 5%, Isola, 2,4%, poco rincaro rispetto all'anno scorso, Porta Romana, 2,6%, e Tortona, 6%, rispetto allo scorso anno. Insomma, alte, alte. La cosa interessante è che anche nell'Internet, però, si alzano, perché, ad esempio, a Monza, a Monza, 289% di rialzo rispetto ai prezzi medi dell'anno. Quindi si va a 2.590 euro a settimana contro i 665 euro, normalmente, per un affitto breve nella città di Monza. Ma sono tantissimi anche altri gli aumenti assurdi, come ad esempio a Rho, a Rho che 255% di aumento per la settimana del Salone del Mobile. E tra l'altro di Rho, che è anche vicino alla fiera, molto probabilmente, strano che non sia così alto anche durante il resto delle fiere, fa capire come, appunto, il Salone del Mobile è qualcosa di completamente diverso da tutte le altre settimane. Posso dire anche diverso dalla Fashion Week. È una cosa completamente diversa, perché non è solo più addetti ai lavori, è veramente il mondo che viene a Milano per la Design Week. Speriamo di riuscire a gestirla decentemente e a farla, anzi, diventare sempre, sempre, sempre qualcosa di interessante per gli turisti, ma anche, speriamo, per i cittadini che, insomma, quella settimana vogliamo goderci anche noi, la città. Liga Bue, Lucid America, 7.49 minuti, Cristiano Radio, ben ritrovati e ritornati qui in diretta. Allora, questione della statua, eh? Dai, sapete cosa sto parlando? Dai, tutto l'weekend che impazza questa questione, allora vi racconto velocemente la storia che succede, allora leggiamo da Repubblica Milano, il Comune di Milano dice no alla statua dedicata alla maternità in una piazza cittadina a Piazza Duse, valori non condivisi da tutti, meglio un luogo chiuso, così direbbe il Comune sul perché non mettere questa scultura, perché la famiglia della scultrice Vera Omodeo voleva donarla al Comune per esporla in Piazza Duse, ma la commissione appunto di esperti ha bocciato all'unanimità la proposta. La replica dice appunto, la replica, cioè, dicono appunto nella commissione, nella sua relazione, dice che sono valori non condivisi da tutti, quindi meglio un luogo chiuso, giustamente la replica invece della famiglia Omodeo dice, ma come valore non condiviso è allattare, e quindi si apre la polemica, polemica che vede per una volta tutti quanti dalla stessa parte però, perché sia i consiglieri di maggioranza, sia ovviamente i consiglieri di opposizione, tra cui in primis Silvia Sardone che insomma ha fatto il suo ennesimo solito post, comunque è stato di fatto che tutti a dire ma siamo impazziti, cosa vuol dire? E quindi si cerca di andare ai ripari e allora leggiamo invece da Corriere della Sera di, perché Sala ha detto la sua, Sala è la statua della donna che allatta, così leggiamo dal Corriere della Sera, collochiamola alla Mangiagalli, un omaggio ai sacrifici delle donne, bella risposta anche quella, complimenti, perché appunto anche Repubblica lo dice, la proposta di Sala per la statua dedicata alla maternità di Vera Omodeo dice mettiamola nei giardini della clinica Mangiagalli, il sindaco sull'opera bocciata dalla commissione comunale dice sarebbe un gesto oltremodo simbolico, io voglio capirla un po' meglio questa storia, non ho trovato grandi informazioni su come funzioni ma io non ho capito, cioè uno fa una statua va bene, cara famiglia della signora Vera Omodeo della scultrice, però io voglio donare una statua al comune, benissimo, devo dire che la statua non è neanche brutta, cioè nel senso oggettivamente c'è roba peggiore in giro per questa città, quindi capisco anche lo slancio di una famiglia, di una scultrice così interessante e importante che dice, vabbè, io dono questa statua al comune, però ci sta anche il comune di Cassio, no, cioè non so come dire, non è che perché me la doni devo per forza metterla da qualche parte, cioè questo è il problema, forse bisognerebbe fare un piccolo passo indietro e dire non donateci le cose, cioè siamo noi comuni a chiedervela se la vogliamo, non so come dire, o siamo noi comuni a capire se ci interessa qualcosa più o meno, perché è complicata questa cosa, effettivamente in questo caso, poi ripeto, non va neanche male, è una statua, ma è una statua tranquillissima, tra parenti di questa donna, bella, è una statua molto bella, credo in bronzo sia, che allatta, una figura molto interessante, e non capisco veramente perché la commissione abbia detto quelle frasi lì, oltretutto la commissione nella sua redazione dice anche in realtà che nella piazza non ci sta bene una statua, a prescindere, ovviamente però poi non è che ci fermiamo sulla prima riga del discorso, andiamo su quello secondo, dove appunto si parla di valori non condivisi da tutti, meglio un luogo chiuso, allora, quell'uscita un po' particolare, effettivamente, mi ci metto nei panni delle persone che hanno letto quella relazione, ma non lo so, sta di fatto che è veramente complicato capire che cosa passasse per la testa alla commissione di esperti, e quindi adesso vedremo un po' come andrà questa situazione. Comunque adesso invece è lunedì, lo sapete che a lunedì noi si parla di lavoro, e lo facciamo sempre con Filippo Poletti che ci augura a tutti quanti un buon lavoro, e quindi a te Filippo. Buon lavoro a tutti, la prima parola della settimana è passione. Quando si fa una cosa con passione, tutto diventa più semplice. Bella intervista di Francesca Nonino, la 33enne influencer della grappa, che all'interno dell'azienda di famiglia, storica azienda di famiglia, si occupa appunto di comunicazione. Passione dunque, benvenga la passione. La seconda parola chiave della settimana è felicità. Secondo uno studio condotto dalla Oxford University e pubblicato sulla Harvard Business Review, la felicità sul posto di lavoro porta a un aumento della produttività pari al 13%, e lo sappiamo bene, la felicità sul posto di lavoro è uno dei motivi che ci fanno restare in un'azienda. Dunque, benvenga la felicità sul lavoro. La terza e ultima parola chiave della settimana è felicizia. È una parola nata dall'unione di felicità e di amicizia e che si riconnette alla parola che abbiamo appena discusso. È il tema del prossimo TEDx legnano in programma sabato 13 aprile a Legnano appunto. Anch'io parteciperò a questo TEDx per parlare di che cosa? Del mezzo pieno, ossia come sia possibile affrontare la vita vedendo il bicchiere sempre mezzo pieno. Dunque, buona felicizia a tutti. 8 e 09 minuti, questo era David Bowie con Heroes, il nostro Crystal History delle otto. Ebbene sì, oggi torniamo a parlare di un tema che sapete quanto una volta ne abbiamo già parlato ma non mi annoia mai o meglio non lo so in realtà però c'è di buono che questa volta c'è qualcosa di nuovo anzi c'è una cosa in realtà che ci sta andata da tempo 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 però nessuno si ascoltava nessuno ascoltava e poi dopo abbiamo scoperto che c'era gente che lo diceva anche molto più forte di noi e per fortuna adesso incominciano ad ascoltarla stiamo parlando dello stadio di San Siro e di che cosa succederà quale potrebbe essere il futuro di San Siro a prescindere in realtà da tutto quello e allora diamo il buon giorno a Grecia Sceo e Paolo Catramone buongiorno buongiorno benvenuti ho detto giusti i nomi si ho detto giusto ok buongiorno allora perché vi abbiamo invitato perché voi siete riassumendo velocemente in un'unica parola che poi sono due Reuse San Siro giusto? è giusto è giusto quindi è un lavoro che è iniziato attraverso un progetto universitario all'Accademia di Architettura di Mendrisio in quella che è una cattedra di un professore che si chiama Muc Pezzet che io appunto Paolo Catrambone insieme a Giulia Biondi che è una seconda assistente abbiamo accompagnato e Gresa Sceo insieme a Teresa Marinoni insomma erano due studentesse molto capaci abbiamo lavorato su Milano e loro si sono interessati a questo che è iniziato come lavoro universitario e poi è diventato un vero e proprio progetto che oggi ha una sua pagina Instagram Reuse San Siro un sito e magari non ti svelo troppo tutto subito ma questa è un po' l'introduzione complessiva di cosa stiamo parlando ed è un progetto di riuso dello stadio perché la filosofia che ci dico tutto quanto in realtà è la filosofia delle tre R giusto che io odio fortemente avendo la remoscia ma è molto bella dal punto di vista sostenibile invece complimenti per l'idea Reduce Reuse Recycle giusto questa è la filosofia come potremmo spiegarla meglio ma penso che bisogna sempre provare un attimo a tenere in conto che noi lavoriamo con edifici che non hanno una funzione e quindi diciamo no alla demolizione ma più che altro gli edifici possono avere una seconda vita e quindi questo aiuta alla sostenibilità complessiva proprio a lungo termine quindi questo Reduce Reuse Recycle può essere in tantissimi modi in architettura nella vita quotidiana e noi proviamo più a portarlo nell'ambito dell'architettura è solo che finché appunto lo facciamo nell'ambito quotidiano o nell'ambito non so di un parchetto posso anche arrivarci da solo in uno stadio come quello di San Siro devo dire che è stato un bel un bel progetto un bel esperimento che però insomma sulla carta per adesso sembra funzionare no? cioè come vi è venuta l'idea di appunto riutilizzare San Siro ma loro hanno avuto e poi noi abbiamo accompagnato soprattutto una premessa molto importante che è stata quella di non avere nessun tipo di approccio abbiamo detto dall'inizio nostalgico quindi il lavoro che è stato svolto è un lavoro che prende come richieste legittime quelle di Milan e Inter di avere uno stadio al passo con i tempi in cui siamo e con le società che competono a livello internazionale con loro e di capire se le loro richieste fossero integrabili allo stadio di San Siro con un progetto di ristrutturazione perché volevamo provare con loro a sviluppare l'idea che la sostenibilità rischia a volte di sembrare green ma non essere veramente quella la strada da percorrere ma è quella di evitare di emettere in atmosfera emissioni non necessarie quali quelle che sarebbero provocate dalla demolizione di quello stadio rispetto a un suo riuso effettivo e questo era un po' quello che secondo me Greza anche diceva rispetto a poi il progetto l'hanno sviluppato soprattutto loro quindi non so se vuoi aggiungere no no è molto giusto devo dire che su questo tema infatti ho visto non so se il progetto comunque il anzi le 56 pagine di idea che avete portato che è veramente interessante a un certo punto c'è proprio un capitolo che si chiama falsa sostenibilità esatto falsa sostenibilità perché noi abbiamo anche analizzato un attimo tanti altri progetti presentati da da altre realtà di Milano di cui loro a prescindere demolivano demolivano lo stadio e loro proponevano queste questa falsa sostenibilità che sarebbe nuovi parchi diciamo un'energia rinnovabile però loro non tengono in considerazione che se tu a prescindere demolisci lo stadio provaci tantissimi metodi ma tu il CO2 i chili di CO2 che emetti sono di una quantità molto alta e voglia fare parchi poi per compensare hanno calcolato esatto in teoria tu dovresti ricoprire tutto il 60% del quartiere di San Siro di Alberi per assorbire il primo rendering che era uscito effettivamente sembrava quella l'intenzione perché praticamente avevano messo lo stadio in Amazzonia avevano fatto una cosa del genere infatti i cittadini si erano un po' stupiti di questo ma adesso entriamo bene nel progetto perché voglio vederlo insomma 56 pagine sono piene di roba quindi voglio non vi dico pagina per pagina ma quasi perché ci sono dei bellissimi disegni tra i paesi avete fatto anche uno studio sul quartiere ho visto perché ad esempio c'è una cosa che mi ha colpito che avete definito la linea del tram 16 divisoria che effettivamente è quello che fa esatto noi abbiamo sì per noi è stato molto importante anche esplorare il quartiere perché lo stadio è del comune di Milano e quindi secondo noi è anche un edificio pubblico e quindi anche nel progetto abbiamo provato a dare questi questi spazi che sono legati al quartiere perché servono il quartiere di San Siro ne ha bisogno e quindi ne parliamo subito dopo Santana con Corazone Spinado perché poi entriamo appunto nel vivo del progetto di come potrebbe essere riutilizzato 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 dico tre volte sono le tre R per me solo riutilizzo in questo caso quello dello stadio di San Siro e adesso appunto Santana con Corazone Spinado Santana Corazone Spinado 1995 no dai è possibile infatti 99 vabbè sono io che sono mio mi sembrava mi sembrava un po' troppo vecchia comunque andiamo avanti con invece il nostro progetto o meglio il loro progetto adesso andiamo con Gresa Asceo e Paolo Catrambone di Reuse San Siro allora cerchiamo di capire però fatemi capire bene come lo riutilizziamo e in che maniera perché c'è una grande novità anche nel vostro progetto vedo un pezzo in più di stadio verrebbe da dire esatto noi sfruttiamo il fatto che il terzo anello non è mai stato completato dato l'ippodromo e quindi quello spazio residuo noi proponiamo questo nuovo edificio in cui implementiamo tutte le funzioni di cui le squadre hanno bisogno e hanno anche richiesto infatti prima mi state dicendo la cosa interessante questo oggetto è il fatto che tutto quello che viene richiesto dalle squadre non viene fatto all'interno dello stadio o viene fatto in questa struttura che viene attaccata allo stadio e che quindi dentro si può continuare a fare quello che si vuole in un certo senso principalmente poi noi abbiamo lavorato anche all'interno dello stadio in cui c'era questo piano non completamente sfruttato questa cosa ogni tanto salta fuori infatti esatto spieghiamola che sembra assurda ma è un piano ci fa un condominio dentro esatto gigante no però è un piano che non ha un accesso diretto alla tribuna per questo era un motivo per cui non veniva usato noi invece cambiamo un po' la circolazione e diciamo aggiungiamo queste gradonate con una specie di anello attorno allo stadio che ti porta anche in questo piano di cui è pieno di funzioni diverse legate al calcio non legate al calcio e poi diamo questa nuova circolazione per poi rientrare al primo anello quindi attraverso queste gradonate è interessante va di questo che lo stadio non sarà solo però del calcio a questo punto nel senso che appunto ci saranno vari servizi è un posto dove io posso andare un giovedì mattina a fare qualcosa ad esempio giusto tipo esatto ma perché tanti altri stadi nel mondo del calcio sono aperti tutti i giorni quindi anche questo in ambito economico per le squadre è molto importante quindi noi volevamo con questo cambiamento di circolazione avere lo stadio aperto 24 su 7 di cui adesso San Siro non lo è e quindi dare differenti funzioni come anche ad esempio un nuovo centro commerciale questo collocato sotto queste gradinate c'era anche un asilo forse esatto e poi anche quindi queste funzioni legate al quartiere come una biblioteca un posto studio per gli studenti che abbiamo visto che a San Siro un po' manca per le scuole un asilo e poi un po' anche a dipendenza hai parlato di centro commerciale attenzione perché quando si va di quello subito la cosa interessante di questo centro commerciale è che verrebbe fatto praticamente sotto lo stadio in un certo senso uno spazio che è già occupato in un certo senso però c'è una cosa secondo me importante da dire in questo quando il nostro ex presidente del consiglio aveva detto Mario Draghi non c'è sostenibilità senza economia è il fatto che questo lavoro cerca di integrare entrambe le cose per cui non è fattibile realisticamente pensare di sostenere un investimento del genere se non ci sia qualche elemento che consente di trenare l'investimento la differenza molto grande però è che mentre lo stadio cattedrale quello che è stato sopronominato così cementificava completamente entrambe le aree sia quella di sinistra sia quella di destra per costruire un centro commerciale questo lavoro cerca di lavorare in integrazione associando a questo tutte le funzioni pubbliche che Gereza diceva di asilo di biblioteca tant'è che il primissimo progetto quando abbiamo presentato l'università si chiamava lo stadio sociale questo era il primissimo tema poi abbiamo cambiato però è il tentativo di integrare come dicevo prima cioè fare un progetto che non è semplicemente ah ci piace San Siro perché ha una memoria storica della città sì però cerchiamo di farlo in integrazione con la domanda del 2024 e infatti una cosa interessante del vostro progetto appunto è che da una parte rispetta San Siro senza però farlo appunto diventare un mausoleo o una cattedrale in un altro senso dall'altra capisce comprende le richieste di un mercato che ovviamente dice ok lo faccio ma ci devo guadagnare in qualche maniera e nessuno ha mai detto niente a Milano Inter su questo se non fosse che poi volevano appunto mettere cemento su tutta un'area immensa che insomma non aveva senso quello la cosa interessante quindi è questo riutilizzo degli spazi fondamentalmente perché voi avete proprio ripensato completamente ma giustamente dicevi ci sono anche altre strade nel mondo che già ci fanno vedere che si può fare qualcosa del genere quindi l'ispirazione in realtà è anche abbastanza tra virgolette semplice nel senso Barcellona e Madrid per chi non segue il calcio ma sono due esempi estremamente invasivi sono due progetti molto invasivi però di due riusi completi di questi stadi cambiati completamente e soprattutto quello di Madrid fatto in un tessuto storico della città di Madrid molto denso non so per chi ci sia stato ha gli edifici a fianco a una distanza di credo di massimo 5, 6, 7, 10 metri su tre lati e nonostante questo sono riusciti a fare un'operazione importante quindi io credo che volendo ci sia tutto il margine di poterlo fare anche qui invece Raccontami di questo come lo chiamate lo schermo lo chiamate esatto perché noi volevamo provare anche a proporre questo progetto un po' impattante diciamo per farci più sentire quindi abbiamo preso come riferimento tanti progetti che lavorano su questo mondo del led su questo mondo dello schermo e quindi abbiamo provato a proporre in questo grande edificio che noi proponiamo mettere questo schermo e quindi un po' comunicare con la città e diciamo anche portare un lato moderno allo stadio e sarà praticamente quando quello che ho visto è veramente un palazzo ricoperto di led giusto? cioè questo forse possiamo ci sono dei sistemi oggi in cui praticamente con dei sistemi programmati tu puoi avere questa grande facciata che sarebbe per chi ci segue sul lato diciamo di completamento del terzonello che è sul lato di podromo dell'ex podromo esattamente per cui l'edificio del trotto quando l'edificio salendo incontra lo stadio diciamo in sezione diventa una tribuna estesa quindi come se continuasse il terzonello con tutti gli skybox tutte le lounge che venivano richieste nelle altre zone invece completa le funzioni che venivano richieste dalle squadre quindi uffici hotel e altri tipi di necessità e verso la città di Milano lì decisi di costruire ovviamente il progetto è stato una fase preliminare di visione non è una fase esecutiva integrare un sistema di led che consentisse di proiettare consentisse pubblicità consentisse quindi di diventare un'immagine che magari cambia colore rosso quando gioca il Milano e blu quando gioca l'Inter come alcuni stadi come Monaco di Baviera hanno iniziato questo tipo di lavorazioni per fare comunicare di più questa scelta con la città ed è vero sì che è un po' è impattante ma la cosa divertente è che in realtà poi sarebbe un oggetto quasi visibile praticamente la città poi perché comunque sarebbe proprio iconico anche del luogo tra parentesi se l'Inter vi dice qualcosa dice ah ma non si può fare attenzione vi do questo suggerimento non so se l'avete visto il progetto Don't Stop dell'Inter prevedeva un led wall grosso come tutto il primo anello e se volete vi giro il progetto qua lo sto riguardando se volete un giro su Milano News le storie vi ricordo il famoso articolo che abbiamo fatto su San Siro c'era anche questo progetto dentro il progetto Don't Stop dell'Inter e comunque adesso andiamo avanti con la musica perché è il momento di arrivare con Giovanotti prima che diventi giorno qui alle 8 e 27 su Crystal Radio e poi continuiamo a parlare ancora 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 di Stadio di San Siro e questo era Max Pezzali con qualcosa di nuovo attento Max perché se ti beccano i miei ospiti di oggi te la fanno con qualcosa di rinnovato ti cambiano il titolo e attenzione Max perché dico questo perché appunto non lo facciamo nuovo San Siro lo rinnoviamo reuse San Siro e soprattutto questa operazione cosa ha di buono almeno così dicono loro carta canta carta verba volant l'avete capito l'hanno scritto poi dopo semmai gli diciamo se non è così che costa anche meno come operazione rispetto a buttatutto giù ricostruisci su e fa guadagnare comunque tanto sì sì perché tu risparmi diciamo il costo di abbatterlo e ricostruire un nuovo stadio però allo stesso tempo noi riusciamo a mettere la stessa metratura in più come il progetto di Populus che era stato presentato nella cattedrale esatto nel 2021 e quindi questo è un buonissimo traguardo per anche far capire il fatto che non hai bisogno di togliere completamente demolire completamente uno stadio per arrivare a questa metratura richiesta di nuove funzioni parlando di numeri da quanto vedo avete fatto il confronto tra il progetto di CEAS che è appunto quello della cattedrale giusto e il vostro un miliardo quello di CEAS giusto più o meno più o meno poi ha anche un'aggiunta in verità però un miliardo diciamo il costo più o meno di costruzione 50 euro più 50 euro meno a quel punto potrebbe essere un miliardo e 200 milioni però sono come quelli che vanno a comprare la macchina nuova e poi risparmiano sui cerchioni capito hai speso 50 mila euro di macchina 800 euro di cerchioni non è che invece ma giustamente il vostro invece è 350 milioni così un costo indicativo quello che però mi interessa molto in realtà che io sono una capra in matematica ma me ne sono accorto anche io quindi pensate che appunto stadium revenue cioè il guadagno potenziale dello stadio negli anni credo sia non c'è quello sia giusto il stadium revenue noi l'abbiamo abbiamo calcolato più che altro perché noi abbiamo compartimentato lo stadio quindi diciamo il mondo dei biglietti il mondo della tifoseria del calcio e poi abbiamo compartimentato invece le altre funzioni fuori dallo stadio quindi l'edificio schermo quindi questo è tutto quanto messo insieme solo biglietti stadium revenue stadium revenue se andate anche a vedere i calcoli fatti dal progetto della cattedrale loro contano anche il marketing ok perfetto loro ci fanno 41 milioni e 8 voi avete verso 42 milioni e 100 diciamo che comunque siamo lì pari ma non so se ha un senso questo conto che ho fatto la cosa che però mi ha colpito è che loro fanno 42 milioni con 280 mila metri quadrati di roba voi fate la stessa cosa con 110 quindi in realtà i vostri metri quadri fruttano di più ha un senso questo calcolo che ho fatto voi è completamente campati in aria in verità no perché noi noi fruttiamo uguale diciamo la questione qua dell'end use è che loro usano tutto il lotto di San Siro perché loro usano tutto il lotto perché prevedono nella parte sinistra un nuovo stadio nella parte destra dove c'era dove è adesso San Siro il famoso mall il centro commerciale esatto il centro commerciale invece noi diciamo non vogliamo usare tutto il lotto riusiamo solo quindi la parte destra del lotto e proponiamo anche alle squadre se vogliono di proporre un nuovo tessuto urbano nella parte sinistra del lotto magari mettere a posto il parco che c'è già potrebbe bastare o fare i famosi parcheggi che non ci sono per la metropolitana per l'otto ovviamente noi intendiamo sempre per chi ha l'idea lo stadio è quello che oggi è il parcheggio sulla sinistra questa area completamente tra bene se ricordiamo che lo stadio l'idea del progetto lo stadio andrebbe a costruirsi sull'unica area verde che esiste attualmente in quel piazzale di cemento quindi anche questo è interessante perché rimanere sulla destra e non spostarsi perché rimanere più a est piuttosto che spostarci a ovest anche per quel motivo qual è stata una delle sfide proprio interessanti che avete trovato nel progettare questa idea bellissima domanda più che altro provare a capire lo stadio perché è un progetto veramente è molto bello molto bello ma molto complicato allo stesso tempo perché non è uno stadio classico quindi ha una circolazione non non comune cosa differisce dagli altri ma diciamo queste bellissime torri che tutti noi conosciamo non è una circolazione ci sono altri stadi certamente però sono molto poco e quindi noi volevamo provare a mantenere questo carattere di San Siro e quindi provare a inglobare un po' questo gioco della circolazione diciamo che questo è stato un po' il nostro obiettivo anche ovviamente tenendo in conto tutte queste cose che abbiamo parlato fino ad adesso quindi le funzioni l'economia eccetera eccetera però questo diciamo è stato un po' la cosa interessante ecco la funzione che non ti aspetteresti di trovare in uno stadio che invece c'è nel vostro progetto quale potrebbe essere se dobbiamo trovare l'asilo esatto la biblioteca e l'asilo vabbè effettivamente perché l'idea è quella di poter mettere un asilo una biblioteca all'interno dello stadio è quello che loro hanno detto nel senso di cercare di costruire uno stadio sociale cioè come ci siamo detti anche all'inizio l'interesse è arrivato notando un quartiere di San Siro perché è anche una cosa importante da dire che nessuno di noi è di Milano viviamo a Milano ma non siamo di Milano quindi l'abbiamo un po' conosciuto che vive delle disparità sociali molto grandi tra una parte magari sud più legata alle zone di Serinunte e una zona nord più legata ai quartieri residenziali quindi l'idea di andare a mettere funzioni sociali e farlo vivere durante tutti i giorni della settimana come asilo biblioteca Gresa mi dici se mi dimentico qualcosa ma è giusto era questa idea di renderlo non solo un mausoleo del calcio o dei concerti d'estate ma qualcosa che è in grado di comunicare con la città ed è forse quello appunto che ci affascina di questo progetto che appunto speriamo di vedere almeno posso dire non arrivo a vederlo realizzato ma almeno ascoltato devo dire che già quello dovrebbe essere è l'obiettivo era l'obiettivo perfetto andiamo avanti con la musica adesso il momento di Fiorella Mannoia con Mariposa Mariposa Fiorella Mannoia 8 e 46 minuti e prima di chiudere ancora due parole sul progetto di Reuse San Siro che ha al suo interno anche un messaggio per il comune proprio a message for the major non c'è così no? ma sì noi in questa pubblicazione che abbiamo fatto abbiamo cercato di dare un messaggio di un comune un messaggio per le squadre l'idea complessiva di questo lavoro è quella di stimolare una sensibilità rispetto a riusare San Siro e sperare che questo porti dopo lo studio di fattibilità che è stato commissionato a un concorso internazionale che affidi il progetto e il messaggio per il comune è dire che una città come Milano che vive di smart city sostenibilità e tante parole chiave che hanno viaggiato in questi ultimi anni capisca che questo può essere un elemento pionieristico di sostenibilità vera attraverso la riqualificazione di un edificio storico iconico come lo stadio di San Siro capendo che la vera sostenibilità non è possiamo anche con un pelo di polemica dirlo coprire necessariamente di verde edifici nuovi con cui però emette una marea di energie carbonica per costruirli ma è riutilizzare l'energia carbonica che già ho utilizzato per costruire tutto questo dietro c'è un collettivo giusto che io chiamerò tripla R perché non riuscirei mai a dirlo come si chiama invece RRR Architecture non ce la farò mai quindi tripla R per me va bene che è molto interessante raccontacelo un po' Greza sì noi facciamo parte di questo collettivo che diciamo è una piattaforma di una rete internazionale di non solo architetti ma specialisti in differenti ambiti e diciamo che noi portiamo avanti questa famosa sigla RRR e proviamo a proporre progetti soprattutto legati a questi edifici che possono essere riusati e che non hanno bisogno di essere demoliti beh insomma e questa non è come invece avete parlato non è la falsa sostenibilità al punto di cui di cui si parlava di cui si parlava prima io vi ringrazio allora davvero ringrazio tantissimo grazie grazie mille di essere qui con noi ricordateci anche le coordinate per sapere di più sia sul progetto Rius San Siro sia anche magari appunto del vostro collettivo poi esatto ci potete trovare su Instagram at riusan siro per il progetto invece per il collettivo at rr architecture 3r mi raccomando e invece c'è anche il sito www.riusansiro.com in cui c'è anche un formulario per chiedere un po' le persone di Milano cosa pensano su se bisogna batterlo sì o no quindi se siete vedete dove non arriva l'amministrazione che dice che non si può fare il referendum ci arrivano loro giusto bravi avete fatto bene ne avete fatto e sì qua riusansiro.com fateci un giro la cosa interessantissima anche del vostro progetto che mi ha colpito fin da subito è anche l'internazionalità del vostro progetto cioè tutto minimo in doppia lingua se non avete ma c'è anche il tedesco ovviamente per il quello che riguarda il collettivo proprio a far capire che insomma sì la questione è appunto il tram 16 che divide il quartiere il tombino se lo spostiamo di qua o di là ma poi non è solo lì cioè la questione poi diventa cittadina ma diventa internazionale anche anche perché San Siro è una cosa divertente che abbiamo visto quando hanno presentato un video all'università presentando il progetto intervistando anche insomma persone dal Brasile dal Sud America eccetera San Siro è un po' come il Duomo di Milano cioè chi segue il calcio e lo sport sa che cosa sia San Siro in tutto il mondo e allora appunto seguiteli sui social seguiteli sul sito quindi andiamo con tutte le coordinate anche sul nostro podcast potete riascoltare quindi rivedere anche tutto quello che mi ci siamo atti questa mattina Gresa Paolo grazie mille davvero a entrambi di essere qui con noi e appunto ci risentiamo per magari riutilizzare qualcos'altro adesso io faccio una lista di posti di Milano che secondo me potreste dargli un'occhiata potrebbe essere utile volentieri ad esempio un istituto Marchion di Abagio ad esempio però dopo vabbè ne parliamo ne abbiamo già parlato tante altre volte andiamo con la nostra sigla 8 e 51 minuti sì leggermente in anticipo rispetto al solito ma adesso sentirete perché dopo di noi senti questa e so che non avete ancora sito sommario della settimana perché perché ve lo faccio ascoltare fra pochissimo non prima però di avervi ringraziato anche quest'oggi per la vostra compagnia e vi avervi ricordato appunto che siamo sempre qui per raccontarvi la nostra città e tutto quello che succede un po' così nella grande Milano 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 non sono con i whatsapp grazie a tutti voi che ci avete scritto questa mattina che avete ancora una volta accettato di farci entrare nella vostra routine mattutina io se fossi in voi sinceramente non so se l'avrei fatto ma per fortuna voi mi volete molto bene lo stesso bene che vi vogliamo noi tutte le mattine qui in diretta dalle 7 alle 9 su Crystal Radio le voci che avete sentito sono quelle di Fabio Ranfi qui al microfono e in regia invece abbiamo avuto Elisa quest'oggi ma dopo di noi come ve l'ho detto Ambrogio Curti con SentiQuesta e quindi a differenza degli altri giorni oggi vi lascio con il suo sommario cosa succede quest'oggi a SentiQuesta chiediamolo ad Ambrogio Ambrogio a te